ah ok perchè è uscita? e chi è uscita? e ad ora che devo dire Gianluca è frocio eh non lo so lo so che è improbabile che Gianluca gli piaccia il pene però è così purtroppo eh non possiamo farlo eh lo so sono un amante della... della capoglio della superberanza rosia la superberanza rosia a volte è anche scura però non deve essere la forza rosa a volte è scura a volte è scura anzi eccoli è lui l'unico è il solo oh Gianluca come lo chiamavano? Gianluca come lo chiamavano? e come lo chiamavano? ahahah dimmi tutto oh c'è un carro sotto di noi eh eiii doppia oh eccolo ah doppia un'altra doppia sono 4 kill prima di morire Gianluca le Camilo scu... è Highlander lo andiamo Medical alle tue spalle cava l'ossos restami ok arrivo 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 rivo dai 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 vai grande oh fermati vai parti Gianluca la riscossa in penna in penna attacca ragazze del video a poco poco e che distante voto per cui non è faccio che così faccio che così scuola che potrebbe essere corretto scuola per poter vedi quattro bravo vai 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 via scopriamo d'acqua con i pali 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 stanta mario animale mamma Gianluca, mamma peggio di mio nonno, che schifo sali Gianluca, muoviti, muoviti, muoviti per l'amore del cielo per l'amore del cielo passa sulla strada che piazza le mine sto cazzo passa sulla strada va a fare un culo chi hai messo sotto? davanti, davanti la bomba, cazzo attenzione, ti distrae vai Gianluca vai, ti riparo, ti riparo attenzione, Capagrossa, Capagrossa che è 3 attenzione, 11-0 è proprio lui, l'unico il solo mentre abbiamo in ultima posizione un Akira Crew in leggera difficoltà con un misilissimo 1-5 ed è stato di circa 2.500, 2.700 punti ma che schifo questo Akira Crew eccolo, è lui, l'unico ma che cazzo tieni che tu guardi la pasta con ogni due secondi eccolo si roma strano, ma che metto no, senti che parla, capito che si chiama Draco ci hanno C4 o il carro o il carro che parliamo, capiti raga raga aspettate, prendete l'altro carro ma guarda che è il tuo giriberto, prendi l'altro carro armato come ti amato? giriberto eccolo che si chiama ah no, giriberto ma io voglio, che vuoi dire è stato fatemi mentre facetemi ti faccio aspetta, sentito, Gianluca ti 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 faccio capiscere io sono su ora sto strusciando su su c per dirigermi in coppo a in coppo a t si voglio e se ci dividiamo io ci fate non è meglio mannaggia addio quel bastardo ahahahahahahah oh compa, compa, bordello, compa bordello ci sta qua è dominato chi è? è lui l'unico è il solo che? che? bish bish ma che schifo quindi la vedete con l'rpg è quello sta a vedere ehi oh è finita sta rama ahahah ahahah capa che lo sta maronna mi è come i cazzo guidi fermati trazzi guardami Frank, Frank alla tua sinistra Frank è la mia destra, è la mia destra coggione ah ti prego Gianluca ecco lì, ecco lì, ecco lì ragazzi madonna quanto sono potente MEM c'è molto qua c'è molto VOLA 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 oh oooh OHHHH arriva il re arriva il re arriva il re non sei proprio foro ahahahahahah ehi t'è andato ce n'è una, è sceso bravo bravissimo chuon Luca no sono sceso sono sceso sono sceso non mi ti da salvare no vaffanergo Dave Ma non ci credo Ho il type Ottimo Mi hai fatto terafà Ti ho visto e giuro che ti hai terafato Eccone uno Che bello quando salgono sull'elicordio Eccone un altro Doppio Cubolone Arrivo aspetta Se sta qualche veicolo Prank Chi è che sta col vibe? Io Sto bombardando ma non c'è nessuno No Premix, premix Che posso? Sono fortuiti da cosa Ottio Atterra leggeramente Atterra leggeramente Cazzo Cosa scicchiata? Leggiadlo Leggiadlo Ma sei proprio un coglione Ho preso il palo Quack Madonna 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 Dica si è esplosato Io no Sono in volo anzi No è esplosato Un carro armato che è andato sulle mie mine No Un andaggio Eccolo 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 Lo vedi? Bravo Grande Grande No ragazzi Morto Perdiamo B Oddio ragazzi 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 Sto tornando il carro armato Ragazzi Oddio No Non mi direi che mi contrattacco No Scappa Se c'è di merda questo mi devo segnare Se c'è di merda Ma chi è? Fleck and blue Fleck and blue Please 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 Vieni ma a pigio Please please Allo 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 Oddio Fleck and blue Please please Guarda Ragazzi Mi venite a te una mano Maronna Non c'è nemmeno munizione Dove stai roba? Si Non c'è di munizioni Mannaggia Col maiale Guarda 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 eh nono 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 era ma la sua a 2 ma b c'è più buona basti piedi no sony il ricottolo sto andando a prendere la mano oh vedi? traditor perchè chiede oh oh a calda calda a calda gasti ities eblas eblas AMR – no ma chi sai copi dota sali no è colpa mia perché ho lanciato i flair madonna io ho tolto il 78 poi arriva CFA Essa io tolgo i 2 e non pezzo ma canizzati no il carro il carro eh io dò e l'ho giocato io non ci stai ci stai sempre se lo voglio non ci stai le s myself ma és ma è stabili su un altue ma facciamo connessi carro dov'è ma vedi ho fatto un po' un partitone ma da no ma io ce l'avevo lì il volo della zik 43 lì vedo 91 e ci spacca i tacchi a tecchi a pulì ma che cazzo è lì le lion's roaring in the morning sun searching for a longer day people feeling like the light has just come